Fase 3, decisione. Decisione, cioè vuol dire che a questo punto la persona è quasi pronta a dire ok ci sto, inizio, prendo un kit, iniziamo a collaborare, però ci sono un po' di condizioni, possono esserci più proposte economiche, ci possono essere più possibilità di aderire, ci possono essere più modi di cominciare, ci possono essere ancora una serie di dubbi, di domande da risolvere, ecco lo trovate scritto in rosso, a questo punto è veramente molto importante continuare a sviluppare questa interazione online, a sviluppare questo desiderio facendo sì che noi diventiamo familiari, forse è quello che è un po' successo a qualcuno di noi, mi piace chiederlo chi di voi mi ha conosciuto direttamente online, perché se mi avete conosciuto direttamente online voi siete la prova provata che questa cosa l'abbiamo sviluppata, è nata attenzione che è diventato interesse, forse avete pensato cazzo non è male questo spadoni dice delle cose interessanti oppure dice delle cose che mi piacciono, che mi suonano, per quale motivo tanti di voi sono qua e non hanno mai sviluppato online, perché io non vengo da online e quindi magari avete sentito in me delle parole che hanno rappresentato anche la vostra difficoltà di organizzarvi da questo punto di vista, di sicuro non è qua stasera con noi, è uno dei tanti che ha sviluppato il network solo digitalmente, spesso anche dimenticandosi le quattro fasi del network e pensando solamente a buttare dentro gente, ci siamo trovati vicini e allora ti ho aiutato a decidere se siamo diventati più familiari a un certo punto,